Non mi pare che ci sia nulla di sotterraneo, io dico tutto alla luce del sole. Sono quattro mesi che è cambiato qualcosa nell'atteggiamento della Lega che ci preoccupa. Punto. E io dico quello che non va bene. Non è una novità che in questo Governo ci siano due forze politiche che non sono d'accordo su tante cose. Ma questo non vuol dire che il Governo non debba andare avanti, perché non eravamo d'accordo prima, non siamo d'accordo dopo. E l'abbiamo fatto il contratto di Governo, consapevoli del fatto che le cose su cui eravamo d'accordo fondavano l'operato del Governo. Ma se, come negli ultimi quattro mesi, ho visto la Lega passare da posizioni molto più moderate, che avevano, secondo me, riscosso anche un consenso maggiore nella popolazione, a il giorno di Pasqua con il fucile in mano e le altre questioni che abbiamo visto, anche i libri scritti con Casa Pound, che non sono fuori luogo, perché sono quelli che sono andati nella periferia di Roma a dire ad una donna io ti stupro, e due esponenti poi l'hanno stuporata pure una ragazza, purtroppo, un consigliere comunale e un esponente territoriale di Casa Pound. Sono quelli che dicono che l'antifascismo è male assoluto, alimentando uno scontro ideologico che a me non interessa alimentare, perché in questo Paese si deve lavorare sulle cose concrete come quello che stiamo facendo oggi. Non bisognerebbe lavorare a scontrarsi su temi ideologici. Quindi, se sarà sempre così, ogni volta che io vedrò delle derive di ultradestra o delle derive scomposte, lo dirò prima delle elezioni e anche dopo le elezioni, perché il Movimento 5 Stelle è un argine alle derive in questo Paese. Sia quelle corruttive, e l'abbiamo visto su tanti fronti, e noi siamo stati coerenti su questo, mettiamo fuori chi sbaglia da noi, ma chiediamo lo stesso trattamento a quelli che stanno nelle altre forze politiche. E, dall'altra parte, anche su una serie di atteggiamenti che poi alimentano tensione nel Paese. Ripeto, la tensione nel Paese non è un tema ideologico, è un tema di sicurezza dei nostri figli, perché se le piazze si trasformano di nuovo nelle piazze degli anni 70, alla fine l'unica cosa che ne risentirà sarà la serenità delle nostre famiglie e lo sviluppo economico, perché c'è sfiducia negli investimenti. Grazie a tutti.